Ciao, come state? Come sempre facciamo il solito nostro post dove, intanto, come sempre, vi ringrazio per essere stati numerosi anche quest'oggi. Oggi il tema era donne motori, gioia e dolore. Insomma, a me ne avete raccontato un po' di tutti i gusti e di tutti i colori. Che cosa mi avete raccontato? Beh, intanto, che siete stati anche un po' monelli e sulle due o quattro ruote, chi in qualche modo aveva il suo scooter e lo aveva anche un pochettino truccato e quindi poi gli è stato sequestrato, beh, giustamente. Chi invece, privatamente, insomma, piaceva girare in pista con la sua auto, con la sua Abarth e quindi in qualche modo amava comunque la velocità e tutto quello che ha a che fare con la pista in sé, ma, naturalmente, abbiamo parlato anche di biciclette, di bike, del fatto che, effettivamente, insomma, chi è amante come mega naturista della natura, insomma, adora poter utilizzare la bicicletta e essere più a contatto con la natura. Un e-bike che io, tra l'altro, ho provato anche quest'estate e devo dirvi la verità, è un po' pesantina, aiuta sicuramente chi ha problemi ad andare in bicicletta, magari andare comunque in montagna senza troppi sforzi. Bisogna fare attenzione perché veramente appena parti, boh, acceleri, un po' come era capitato anche a me col motorino, anni, anni fa, quando ero giovane, che, insomma, c'ero salita sopra. Non mi avevano ancora spiegato cosa dovevo fare, che avevo già girato a manetta, praticamente, l'acceleratore e lì, ahimè, che era successo, era successo che ero caduta. Quindi è stato un po' un disastro, per cui ci ho messo da crescere sopra, anche se in realtà mi sarebbe sempre piaciuto un pochettino avere una moto, prendere la patente per la moto. Poi i miei genitori mi hanno detto, ma cosa dici, prendi la patente della macchina e va già bene così. E quindi da due sono andata a quattro ruote, quattro ruote che ho utilizzato anche quest'estate con le mie figlie e la mia famiglia, perché sono andata per la prima volta anche in pista su quelli che sono i go-kart. Mi sono divertita un mondo, ma sono andata molto, molto, molto piano, perché, insomma, mi piacciono queste cose, ma mi fanno paura alle velocità. Quindi questo è stato un po' quello che ci siamo raccontati, abbiamo passato anche della musica legata, appunto, alle due, quattro ruote, come bicicletta di Riccardo Cocciante. Abbiamo passato e riascoltato anche un brano che faceva parte della colonna sonora di Electric Dreams, che mi è stato richiesto da voi come sempre. E poi, naturalmente, insomma, abbiamo anche un po' pensato a quello che poteva essere, insomma, l'EICMA, visto che la prossima settimana ci sarà l'EICMA, e io andrò all'EICMA per raccontarvi poi prossimamente quello che si trova come novità. In più, in chiusura, abbiamo anche un po' rispolverato quello che può essere il tema della prossima settimana, ma in realtà la prossima settimana non ci sarò, e quindi, insomma, dovremmo rimandare il tutto. E il tema, ci avviciniamo al Natale, quindi piano piano andremo a parlare anche di Natale, così nel frattempo vado a comprare l'albero e poi vi racconto che cosa ho comprato. Quindi, siete stati gentilissimi, avete veramente colloquiato con me in tutti i modi, chi aveva lo scooter, chi ha avuto la moto, chi ha avuto le biciclette, chi come Peter ha tantissime biciclette, 35 se non ricordo, perché lui faceva anche le gare, quindi era un ciclista, insomma, è bello perché ogni tanto mi raccontate un po' di voi, e questo un po' è quello che ci piace che succeda il martedì mattina, ma come sempre potete venirmi a trovare su Patreon se avete voglia, e lì, insomma, troverete tante altre cose. Potete contattarmi a imhlib.it, vi mando un bacione, un grande abbraccio e ci vediamo prossimamente, come sempre qui su YouTube. Ciao!